Molti cittadini cremonesi vengono e veniamo qua per correre, per camminare, per passeggiare, per andare in bicicletta, per accedere alle canottieri, anche per vedere se il Po è più alto o più basso. E andare avanti e indietro lungo il Lungo Po è una tradizione per i cremonesi. Bene, immaginate questo luogo più bello ancora, il Lungo Po come il lungomare per la città di Cremona, con nuovi arredi, con pavimentazioni, con luoghi di sosta e di servizio, perché corre, perché va in bicicletta, perché accede alla navigazione fluviale. Una rigenerazione ulteriore del luogo compatibile con la natura e con le piene, per rendere questo luogo ancora più bello, vivibile e vissuto per i cremonesi che ne sono innamorati e per i non cremonesi che ne devono rimanere affascinati.